ah ok, questo brano lo dedichiamo a tutte le patatine al pollo del mondo viva le patatine al pollo le patatine al pollo con quell'odore che va nel naso le patatine al pollo le patatine al pollo le patatine al pollo e niente al pollo manche niente al pollo non c'è grazie mangiate le patatine al pollo che sono buone ora l'ultimo brano di prof e me ne vado avanti i coglioni